Grazie Tiziano Pesce, grazie mille per averci illustrato i progetti. Penso che la parola ambiziosa sia quella giusta. E passo subito la parola al Ministro Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ringrazio tanto di questa presenza e che appunto segna una volontà e un'attenzione sui progetti di sport per tutti e per lo sport sociale. Mi passo subito la parola, grazie. Grazie, grazie per questa occasione. Mi piace prima di tutto sottolineare come questo progetto si inserisca, come è stato detto nell'introduzione, all'interno di un disegno che ha come fine quello del raggiungimento degli obiettivi di coesione dell'Agenda 2030 e che è parte integrante della politica di coesione dell'Unione Europea. Insomma, lo sport viene riconosciuto anche dall'Unione Europea come un elemento essenziale per i raggiungimenti di obiettivi di benessere e di sviluppo sociale. Da qui è anche il senso della mia presenza qui. Non sono il Ministro dello Sport, ma è, diciamo così, una manifestazione emblematica del fatto che una parte delle politiche sociali passa attraverso lo sport. Il perché è abbastanza intuitivo, soprattutto se lo caliamo nella dimensione urbana, cioè la dimensione in cui scarseggiano gli spazi, ci sono difficoltà di accesso alle strutture, dove i rischi di marginalità sono più alti, perché dove tutto questo avviene si riducono due obiettivi che sono fortemente agevolati dallo sport. Quello delle pari opportunità è quello del principio di eguaglianza sostanziale. Non è un caso che, diciamo, le forme di dittatura integralista, delle teocrazie, coloro che contestano l'eguaglianza tra gli uomini e le donne, introducono spesso come primi provvedimenti la restrizione della possibilità delle donne ad accedere allo sport. Lo sport è, lo è, diciamo, nella cultura popolare, lo è nella dimensione anche della quotidianità, una chiave di riscatto. E questo credo sia il tema che sta al centro di questo progetto. Del resto ce ne siamo accorti, credo, in modo molto forte durante la fase più acuta della pandemia, quella del cosiddetto distanziamento sociale, nella quale abbiamo visto quanto e come pesa sul benessere fisico e psichico della persona la impossibilità ad accedere allo sport. E credo che proprio questa nuova consapevolezza ci deve far investire di più in termini di attenzione, di capitale politico, diciamo, ancora prima che di risorse su questa dimensione. L'obiettivo del progetto che viene presentato oggi è quello appunto di rendere accessibile a tutti lo sport, anche in momenti di crisi economica e sociale, di non ridurre le opportunità che sono legate allo sport e all'attività fisica, garantendo appunto l'accesso ai servizi e alle strutture. In questo ambito io vorrei tributare un giusto e dovuto riconoscimento al ruolo dell'UISP per la sua impostazione storica, diciamo, io sono ormai abbastanza vecchio per ricordarmi quando si chiamava ancora Unione Sport Popolare, e la dimensione, diciamo, che in molte realtà aveva, di integrazione, diciamo così, della struttura ufficiale dello sport, coprendo quelle aree, diciamo, nelle quali appunto il tema della competizione era meno forte ed era più importante la dimensione di carattere sociale. Ora, per fortuna, diciamo, nel corso del tempo c'è stata una contaminazione, cioè la presenza del Presidente Malagò, credo che ne sia anche la conferma, cioè la dimensione sociale è diventata anche, diciamo, un tratto caratterizzante, diciamo così, dello sport istituzionale. Ma questo è dovuto anche a un grande movimento storico che c'è stato in Italia e da questo punto di vista il ruolo che il WISP ha svolto è di grandissima importanza e lo è ancora oggi. Ed è molto importante per un'idea di sviluppo sostenibile, di innovazione sociale, come elemento per supportare la coesione della comunità. A questo proposito, giudico, molto importante la definizione dell'iniziativa del CESE, del Comitato Economico e Sociale Europeo, che in una risoluzione ha chiesto di rendere più incisiva la politica comunitaria in materia di sport, includendo, tra l'altro, il tasso di deprivazione sportiva nell'elenco degli indici Eurostat per misurare la deprivazione materiale. E questo credo sia un salto di qualità molto importante nella valutazione del benessere, che non è soltanto, diciamo, un dato individuale, ma è la conseguenza del contesto nel quale una persona vive e quindi in un contesto in cui l'accesso allo sport è più o meno garantito. credo che dire sport per tutti sia una frase semplice, ma straordinariamente ricca di significato, perché si declina in una società che ha bisogno dello sport per stare bene, in uno star bene in cui i termini salute fisica, ma anche dal punto di vista della salute sociale dei nostri contesti, diventa sempre più importante. Io insisto molto sul tema di che cosa significa un lockdown sociale di due anni nelle generazioni più giovani, quali sono le conseguenze che ancora non vediamo e che forse vedremo nel corso del tempo e come lo sport può essere una risposta, diciamo, a questo vero e proprio trauma esistenziale, insomma. Credo che sia comparabile a quello che hanno vissuto le generazioni che ci hanno preceduti nella guerra, lo abbiamo detto spesso come parallelo, ma le guerre sono state anche la causa di traumi di carattere psicologico e con dimensione sociale che si sono poi protratte nel corso del tempo. Qualcosa di analogo probabilmente stiamo vivendo, di cui non abbiamo neanche la piena contezza e questo io penso sia un elemento su cui sia molto importante riflettere e oggi proviamo a dare una parziale risposta, credo, a questo termine. Credo che sia importante questo progetto per la sua capillarità perché coinvolge 15 regioni e 26 città e quindi, diciamo, non possiamo parlare di un progetto pilota neanche, diciamo, di una sperimentazione. È un progetto che ha un'ambizione, diciamo, strutturale. Noi lo abbiamo sostenuto per la ricaduta territoriale e per la capacità di costruire sinergia sui territori, soprattutto attraverso il metodo del partenariato istituzionale, economico e sociale. Io credo sia fondamentale il coinvolgimento diretto delle persone supportando l'accessibilità all'attività sportiva e valorizzando il ruolo dello sport in rapporto alla salute, all'inclusione sociale, a rispetto per l'ambiente, al sostegno all'economia. Da questo punto di vista, io credo che dirò due cose prima di concludere. Che noi guardiamo spesso allo sport, diciamo, dal punto di vista delle performance che si riescono a mettere in campo, della crescita dei movimenti, delle federazioni, ai risultati che si riescono a ottenere. Forse dovremmo anche guardare di più allo sport come luogo dell'innovazione sociale per le formule organizzative che si realizzano nello sport ma che possono essere utilizzate anche in contesti diversi dallo sport. E questo credo sia un elemento di riflessione che, come dire, quanto il volantoreato, l'associazionismo nel suo insieme ha risentito di formule, di modalità organizzative che sono state introdotte inizialmente nello sport. E questo è un tema, credo, di grande portata nel momento in cui abbiamo bisogno di produrre ulteriori elementi di innovazione nella dimensione sociale. Io non mi sottraggo al tema che poneva Pesce, non ero terrorizzato dalle domande che riguardavano il terzo settore, nel senso che nelle prossime settimane concluderemo la modifica della parte fiscale della riforma attraverso un emendamento che è stato costruito con un... Chi mi ha scritto la nota ha detto proficuo, io vorrei aggiungere anche molto faticoso il rapporto col terzo settore per cui voglio ringraziare anche chi ha dato una mano tra cui i WISP ad arrivare a un punto di equilibrio perché quando parliamo di terzo settore parliamo di realtà tra loro poi molto diverse con esigenze anche molto diverse. Si tratta di un passaggio propedeutico nell'ultimo decreto che è stato guardato dal Consiglio dei Ministri c'è l'aggancio per la presentazione dell'emendamento una volta convertito il decreto noi provvederemo alla notifica all'Unione Europea quindi sostanzialmente diciamo il pezzo più importante di ciò che mancava per concludere la riforma si realizzerà nell'arco dei prossimi due mesi resterà poi ancora la parte che riguarda i controlli come ultimo decreto di attuazione della riforma nel suo insieme io credo che si possa dire che entro quest'anno davvero possiamo dire di avere chiuso tutto il percorso di attuazione della riforma del terzo settore è stato un lavoro molto complicato del quale voglio ringraziare anche il direttore Lombardi che ha fatto un lavoro di grande importanza e molto complicato inoltre verranno approvate a breve dal Consiglio dei Ministri le modifiche rispetto al lavoro sportivo e subito dopo partirà un lavoro congiunto con il Dipartimento per lo Sport in modo da rendere questo quadro normativo con la riforma del terzo settore so bene che gli enti del terzo settore sicuramente gli enti di promozione sportiva hanno alle spalle due anni molto difficile ed una ripartenza che incrocia tra l'altro l'entrata in vigore di una riforma che comporta che ha comportato anche un aggravio di carattere burocratico questo però io credo non debba far smarrire lo spirito costruttivo e ne sono certo di cui siete portatori e nella consapevolezza del fatto che questo sarà un passaggio che consentirà il passaggio scusate il visticio il passaggio all'età alla maggiore età diciamo del terzo settore perché noi avremo diciamo così una strutturazione che finalmente consentirà di avere una robustezza a questo a questo ambito anche alla sua declinazione sportiva consentitevi un'ultima notazione e concludo veramente pensavo al passaggio siccome vagamente la storia del Wisp incrocia anche la storia della tradizione politica dalla quale provengo non fosse altro perché mio padre era un istruttore Wisp di nuoto quindi diciamo nell'altro secolo ma il tema del passaggio del nome noi c'è stata una stagione nella quale si è pensato che alla fine in fondo i cittadini fossero uguali le opportunità fossero assicurate a tutti e quindi appunto non serviva più rimarcare la natura popolare era necessario soprattutto riconoscere l'accesso a tutti ora in verità forse dovremmo riconsiderare ora non propongo allo Wisp di ricambiare nuovamente nome sarebbe anche faticoso dal punto di vista però il tema si pone nel senso che in verità c'è un pezzo di società che accede naturalmente allo sport e c'è un pezzo di società invece che non ce la fa non ce la fa per condizioni di accesso come quelle che proviamo ad affrontare qui ma anche per condizioni esistenziali il lavoro come è organizzato il lavoro che tipo di lavoro fai in che contesto vivi non è neanche soltanto una questione che pure pesa di reddito è anche una questione di organizzazione della vita ecco c'è un pezzo di di mondo giovanile che quando accede al lavoro per esempio deve rinunciare alla dimensione sportiva per le forme che sono offerte e quindi il tema diciamo così di una natura popolare dell'iniziativa che deve portare a fare accedere allo sport secondo me si ripropone perché si ahimè si ripropongono si ripropone il tema della crescita di nuove diseguaglianze di carattere sociale che dopo la pandemia o comunque dopo la fase acuta della pandemia rischiano di acuirsi e rischiano di acuirsi ancora di più nella con la guerra insomma quello che penso che proviamo a dire con questo progetto e che io credo dovremmo dire in molte più occasioni è che lo sport non è un lusso che si possono permettere soltanto coloro che hanno realizzato diciamo così un uno standard di benessere e che invece è una condizione essenziale per lo sviluppo psicofisico della persona e per questo motivo deve essere aperto e fruibile soprattutto perché si trova in condizioni di maggior disagio e in condizioni di maggior difficoltà ringrazio WISP per continuare a battere su questo punto credo che dovremo farlo tutti quanti insieme so che anche il presidente Malagò è sensibile a questo particolare tratto e questo progetto prova ad andare in quella direzione grazie 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 grazie